Ciao a tutti, sono Umberto e ho partecipato all'Intership Master Programme di sei mesi, con Polestar sicuramente, e sono arrivato qua all'inizio di aprile e tra una settimana tornerò a Torino. Ho lavorato in un'azienda, in un grosso gruppo di Food and Beverage, italiano chiaramente, qui a Shanghai e adesso sono stato confermato non a Shanghai ma a Bangkok per tre mesi con una più che probabile possibilità di assunzione. Cosa mi ha stimolato dall'ambiente lavorativo a Shanghai? Beh, innanzitutto la facilità di fare network nell'ambiente lavorativo. Una volta che ti fai il biglietto e la visita qua a Shanghai, conosci un sacco di persone e la facilità che hai nel ricevere offerte di lavoro è impressionante. Non è assolutamente quello che mi immaginavo io. Cioè, me ne avevano parlato, ma non così tanto. Avendo partecipato all'Intership Master Programme, avevo le prime due settimane in una scuola di cinese, quindi ho imparato un po' di cinese. All'inizio era abbastanza complicato, poi al fine ti ci abitui e ti si scioglie la lingua. Per quanto riguarda invece il rapporto con i cinesi, non è facile abituarsi ai loro usi e costumi, ma è comunque stimolante vivere in un ambiente che è completamente diverso da quello in cui, almeno per quanto mi riguarda, è quello in cui ho vissuto fino ad adesso. Non vedrò l'ora di andare in Thailand, davvero, perché sarà un'altra sfida, però appunto a tornare qua a Shanghai, dopo i tre mesi in Thailand, appunto a tornare qua. Non pensavo, ma alla fine Shanghai ti resta nel cuore. Non vedrò. Grazie a tutti.